L'iniziativa è decisamente interessante, ha partecipato anche a Venezia e questo è il proseguimento, un momento in cui tra professionisti e direzioni strategiche della pubblica amministrazione in sanità ci si ritrova per confrontarci su temi di interesse che devono essere sviluppati nei prossimi anni, in particolare l'innovazione tecnologica in ambito sia di comunicazione che di nuove tecnologie per la sanità e devo dire che il confronto in questi giorni in particolare è stato molto profitto, tutto finalizzato alla governance e al miglioramento anche dell'efficienza per i cittadini. Io ho partecipato ieri al gruppo per la comunicazione in sanità, il tema saliente definito è che deve diventare proprio un core per la produzione sanitaria, deve essere anche questo considerato estremamente importante per i cittadini anche in funzione di quello che oggi succede sui nuovi social, su sistemi quali Facebook, che diventano spesso dei sostituti di quello che una volta era il medico di riferimento.